Ringrazio Paesaggio per l'invito, rappresento la società Land di Milano, fondata nel 1990 dall'architetto Andrea Schipper e il dottor Giovanni Sala, di cui sono partner, e mi sono occupato specificamente del progetto delle sistemazioni superficiali, delle sistemazioni esterne del verde, della nuova sede della diesel di Breganza, i nuovi headquarter che Renzo Rosso ha realizzato e inaugurato nel settembre del 2010. Noi abbiamo costruito un sistema anche morfologico di verde che abbraccia l'edificio e una componente vegetale che penetra all'interno dell'edificio, fino nel cuore dell'edificio, fino nelle sue corti, che si tematizzano nella prima corte, cioè sulla reception, con un sistema di acqua e vegetazione, e nella seconda corte come un cuore verde con alberi di grandi dimensioni. Tutto l'intorno è un contorno collinare che richiama gli elementi del paesaggio, del contesto circostante, con una grande morbidezza, una grande componente vegetale che siamo riusciti a mettere a dimora già con dimensioni piuttosto importanti, piuttosto significative. Lo trovate a Breganze, provincia di Vicenza, è l'edificio, il nuovo headquarter che raccoglie tutta l'unità, la forza operativa della diesel, è un edificio costruito per 800 persone, con una grande attenzione alla qualità del lavoro.